Il coccodrillo come fa? Guarda che bella è la mia brazza, gioca anche a pallone. La mia cattola è il mio cucina. E allora tu dammi il tuo lottatore. Ma poi io dico, che cos'è che ha di migliore il lottatore della bambina? Certo, sono i giocattoli di Lamporte e Giocattoli. Allora ci andrò subito lì, troverò tutti i giocattoli più belli del mondo. E allora bambini, ci vediamo tutti da Dileonforte e Giocattoli a Noto. Ciao! Arriva l'estate, arriva il divertimento di Dileonforte e Giocattoli. Dileonforte e Giocattoli festeggia insieme a voi tutti l'arrivo dell'estate con sconti incredibili. Nintendo DS Lite ha soli 139 euro. PSP 2004 ha 149 euro. E aggiungendo solo 10 euro potrete avere una custodia, un cavo ed una memory stick da 2 giga. Ma non finisce qui. Fantastica Baita ha 79 euro. Moto Spritz Hello Kitty ha 89 euro. E Moto Runny Ben 10 ha 109 euro. Scivolo Hello Kitty ha soli 29 euro e 90. Scivolo Mega XXL Slide ha 99 euro. Ed ancora una bellissima piscina a sole 39 euro e 90. Torsteggia Camomilla, torsteggia Camomilla e mezzo tormentato se ne va.